Buono, è deciso allora. L'attacco è la miglior difesa possibile, questo è un dato di fatto. Sono l'uomo giusto. Il gol è solo il primo passo per essere un grande attaccante, ma anche possedere la capacità di crearsi degli spazi e avere energia per scattare, anche a fine partita, è altrettanto importante. Grazie.